Brodetto Fest, buona la prima. Per la sua diciottesima edizione, il festival fanese dedicato al piatto simbolo dell'Adriatico ha cambiato pelle, e non soltanto a causa del Covid. Tante le novità, a partire dal nome, ma passando soprattutto per le location e per il format stesso. Sulla carta, un'annata piena di rischi ed insidie, all'effettivo un successo totale. Lo dimostra l'affluenza di pubblico registrata tra venerdì 11 e domenica 13 settembre, sia a Lido, sia nei 30 ristoranti aderenti sparsi tra centro e lungomare in cui si è potuto gustare un buon piatto di Brodetto a un prezzo convenzionato, e dove l'incremento di clienti rispetto alla scorsa edizione è stato addirittura del 30%. Tanti gli eventi andati in scena, tra cooking show, approfondimenti con i grandi nomi del settore e persino uscite didattiche in barca per le quali i posti erano già terminati prima del taglio del nastro di venerdì, quando la soddisfazione di istituzioni e organizzatori era già palpabile. Non era scontato che questo festival mantenesse la sua presenza in questo anno particolare che veniva ricamiato anche nella domanda. È stato posticipato dal mese di luglio al mese di settembre in una formula diversa rispetto al passato, con una ramificazione su tutto il lungomare e centro storico, però possiamo dire oggi con soddisfazione che questo festival che ormai è diventato maggiorenne, si mantiene anche quest'anno con un forte coinvolgimento anche di tanti operatori, ristoratori, come giusto che sia, della nostra città e quindi anche tanti ospiti che passeranno in questo evento, quindi l'emozione è quella di soddisfazione. Dopo 18 anni è un festival che la città al di là di tutto ha voluto a tutti i costi, un evento che non potevamo fare a meno di fare, l'abbiamo fatto con tutte le sicurezze possibili, anzi creando un evento ricco di ospiti, ricco di tante piccole manifestazioni, perciò direi con un'ottica molto precisa, cioè un evento che ha sacrificato i ristoranti a Lido come è stato per 17 anni, favorendo i ristoratori fanesi, perciò abbiamo subito pensato a un'idea di questo tipo, quello di favorire i ristoranti della città, vorremmo che poi anche successivamente nel fuori brodetto per un mese si potrà mangiare questo piatto in quasi 30 ristoranti della nostra provincia e in quel mese speriamo che tanti aderiranno e tanti avranno la possibilità di gustare il brodetto fanese.